Kim.com, ex guru di internet accusato dagli USA di piraterie informatiche e violazione del copyright, ha chiesto al tribunale di Auckland in Nuova Zelanda che deve decidere sulla sua estradizione la trasmissione in diretta web dell'intero procedimento. Il collegio di difesa ha motivato la richiesta con la necessità di rendere trasparenti gli elementi di fatto dell'accusa. La trasmissione in diretta web è stata usata con successo in Nuova Zelanda in caso di interesse pubblico. In questo caso la diffusione si rende necessaria per rendere tangibile il principio della giustizia aperta. Kim.com, tedesco d'origine, è il padre di Mega Upload, il servizio di sharing di file, spesso protetti da copyright. Dopo la chiusura forzata del servizio, nel 2011 gli USA hanno chiesto l'estradizione di Kim.com che ha subito il sequestro del suo ingente patrimonio e rischia ora fino a 20 anni di carcere.